Proprio in rilato, martedì. Io, Daniele, Mondo, Gabriele, c'eramo tutti ospiti a questa serata alla Taverna Verde di Ospedaletto di Forlì dove abbiamo fatto un memorial per un grandissimo musicista romagnolo che ci ha lasciato poco tempo fa, il maestro Tiberio Marani. Il maestro Tiberio Marani ha scritto alcuni dei motivi più belli della musica popolistica romagnola ed è stato colui che scrive i librani per il folflore di Romagna. Meraviglioso, siamo in onda, baronetto, che più da meno. Supersonico, spiritoso e pianeta. E sicuramente stasera sei il figlio del maestro Tiberio Marani, Leonel Marani, che ringrazio Tiberio Marani, ciao Leonel. Grazie. L'altra sera ho esibito un brano e io gli ho detto, a Campegina non te la posso fare. Scherzavo. Perché trovate quanto la facevo. Invece l'ho preparata. Non so come verrà perché, sono sincero, l'emozione è sempre tanta. Quando si suonano queste cose, pensate, un brano del 1971, inciso allora da Germano Montefiori con il folflore di Romagna. Un brano particolarissimo, una stesura particolare. Vi ricordate ragazzi la stesura, signor? Io già non me la sono ricordata nei brani di prima, affatto ecco. Merino è stesso usato adesso. Vabbè, la facciamo come viene. Però questa polca si intitola Miura. E Miura era la casa discografica del folclore di Romagna all'inizio degli anni 70. Dai, bu! Vai pure, pedulli! Dai, va! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.